anche non necessariamente per rompervi le palle per raccontarvi cose pesanti e noiose ma per divertirci un po' insieme che ne so certo la itaral mi piace vedere che ne so mille vi piace non vi piace ma lo so mi diverte pure io devo passare il mio tempo e quindi mi piace farlo in vostra compagnia a qualcuno dà fastidio e dico sempre la stessa cosa ma fatti quello che cazzo vuoi tu lascia già perdere no sintonizzati ripeto su youporn sintonizzati su che ne so www letterature italiane leggo millelibrialminuto.com su quello delle poesie fate quello che cazzo volete noi facciamo quello che cazzo vogliamo e viviamo tutti quanti meglio meglio perché vi voglio dire che c'è un premio della comunità europea di un milione di euro e qui mi svesto da sindaco però perdonatemi ogni tanto io mi devo mi dovete dare questa possibilità no di perché il sindaco è una persona come un'altra no e ogni tanto oggi vedete sto pure così perché il sabato voglio stare libero il sabato e la domenica mi dovete permettere di dire quello che sento di dire come mi piace dire perché noi che il sindaco pare brutto il sindaco ha sempre detto e continuano a dire come l'hanno sempre detto però quegli là che fanno a vedere che mi dice e che scandano i miei vecchi pare che scandano e l'hanno sempre detto e allora voglio dire mi vorrei vorrei averla questa possibilità e quindi vorrei dire voi fate quello che cazzo volete e noi facciamo quello che cazzo vogliamo perché poi c'è un premio della comunità europea ok di un milione di euro a chi si fa i cazzo proprio c'è un solo problema che ci sta chi non può manco partecipare non pensare di vingerlo manco partecipare qual è il vostro problema se noi ci mettiamo il pomeriggio e facciamo il pomeriggio e facciamo i taralli piuttosto che un pezzo di palum piuttosto che la torta di me fate quello che volete ripeto vi mettete fate una bella videoconferenza e vi leggete tutte le poesie che ne so di Pasolini di Montale o vi leggete i libri o vedete un film porno a seconda dei propri gusti papro di noi non ce ne fotte non è che veniamo a dire a Sfoti non è che veniamo a dire a Sfoti non è che non è quello che cazzo gli pare perdonatemi ancora in questo momento non sono sindaco sono Antonio Tutolo cittadino di Lucera di italiano speriamo di poter essere ancora così Grazie.